benvenuti in questo mio nuovo video andiamo a vedere dove trovare il fortbite numero 18 si trova esattamente qui eccoci qua basta che entriamo qui guardate un po fortbite numero 18 lo prendiamo e abbiamo finito fortbite numero 18 preso comunque questo video finisce qua mi raccomando iscriviti al canale per stare sempre aggiornato su fortnite lasciami un mi piace per supportarmi commenti e condividi noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi